Questa mattina in provincia di Crotone i carabinieri con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Dieci persone sono state arrestate, otto sono in carcere e due ai domiciliari. Gli arrestati sono accusati di reati come associazione mafiosa, scambio elettorale e politico mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso. L'operazione ha coinvolto i comuni di Casabona, Scandale e Strongoli. Tra i fermati ci sono il sindaco di Casabona, Francesco Seminario, e l'assessore Anselmo De Giacomo. Lo stesso seminario era stato eletto nel 2021 dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Le operazioni coordinate dalla DDA di Catanzaro e l'operazione in sé è stata denominata Nemesis.